Non abbiamo capito in che condizione stai versando Allora scusate, sono stati sette shot Giusto perché sei li ho persi e uno era quello finale Sette shot, sei dei quali quasi consecutive Due erano due in uno Quasi a stomaco vuoto perché da noi ora come ora sono quasi le otto Ancora non abbiamo né cenato Abbiamo pranzato da un bel po' perché abbiamo pranzato a luna Abbiamo pranzato presto per colpa mia perché volevo lavorare Ho lo stomaco un po' vuoto Poi vabbè, quello che ho fatto ho fatto Ora ho bevuto, quindi sono leggermente out In aria Sì, in questo momento sono io, lui, lei e i My Little Pony My Little Pony Vabbè Loro lavorano e io riprendo perché giustamente loro non mi vogliono far lavorare Soprattutto lui non mi vuole far lavorare Guardate che bello Pac-Man Cioè i fantasmini Io ci vengo alla mia casa Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti